Ebbene sì, in occasione del viaggio di nozze abbiamo perso più di 2000 euro, non nel senso che li abbiamo sperperati come dei nababbi a Dubai. Anche lì ne abbiamo buttati un bel po', ma era un viaggio di nozze quindi va bene. No no, nel senso che li abbiamo proprio persi, caput, scomparsi, spariti per niente e tra l'altro neanche per andare a Dubai. Avevo fatto veloce menzione a questo tema nel video precedente che vi lascio qua, nel quale riassumevo la nostra esperienza di novelli sposi durante una pandemia. E il tema ha suscitato interesse soprattutto su Instagram, per cui ecco qui un piccolo recap di come non organizzare un viaggio di nozze. La storia ha tre protagonisti, noi, il Covid e un'agenzia viaggi che vorrei tanto menzionare, ma vorrei anche tanto evitare qualunque sorta di denuncia e querela, per cui non menzionerò mai il suo nome specifico, ma mi riferirò ad essa come la società, l'agenzia, il tour operator, eccetera, eccetera. Partiamo dal principio. Il viaggio di nozze originale non era destinato a Dubai, bensì era destinato per due settimane al Sudafrica, una di visita dello Stato e una di Safari, e l'ultima settimana era da dedicare a Zanzibar. L'idea del viaggio di nozze risale al 2019, periodo in cui iniziamo a prendere i contatti con un tour operator che altro non era che due ragazzi, italiano lei e sudafricano lui, che da poco si erano cimentati nell'impresa di aprire appunto un tour operator che organizzasse viaggi in Sudafrica. Erano dei ragazzi con i quali abbiamo iniziato a tessere dei rapporti su Instagram, quando loro su Instagram erano notevolmente più piccoli e meno noti di noi, per quanto poco noti noi siamo ancora oggi su Instagram, e faccio questa piccola premessa perché ora loro invece sono cresciuti molto, anche grazie a diverse collaborazioni con dei creator molto 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 più grossi di noi, e quindi loro stanno ottenendo una discreta visibilità e organizzando una discreta quantità di lavori. Quello che facciamo noi invece nel 2019 era letteralmente dare fiducia ad una piccola realtà con la quale eravamo diventati letteralmente amici, e quindi una realtà che secondo noi era degna della nostra fiducia. Passa il 2019, inizia il 2020, a febbraio 2020 paghiamo tutto, diamo circa 4.400 sbembli a loro e in altri 1.200 da Leoni al Budget Air, che è il portale, nel quale prenotiamo il volo aereo per il Sudafrica, Qatar Airways, e poi tutti i voli interni con la South African Airways. Tuttavia, un mese dopo aver sborsato quindi circa 6.000 euro, tragedia, inizia la pandemia. Inizia la pandemia e lo fa partendo proprio dall'Italia, lo fa partendo solo dall'Italia, perché in tutto il resto del mondo c'era sì la consapevolezza di questa pandemia che stava arrivando, ma tutto procedeva praticamente normalmente, talmente normalmente che in Sudafrica praticamente nessuno se ne curava. Il fatto che noi entrassimo in quarantena non tangeva minimamente tutti coloro che dal Sudafrica si dovevano interfacciare con noi attraverso questo tour operator. Questo si traduce nel fatto che nel momento in cui noi abbiamo contattato il tour operator per capire cosa fare, il tour operator ci ha detto che loro dipendevano completamente dagli hotel e dai lodge del posto e che in quel momento gli hotel e i lodge del posto avevano la prenotazione ordinaria, non avevano problemi e quindi stavano cercando di capire che cosa fare. Fortunatamente, per modo di dire ovviamente, il Covid arriva qualche settimana dopo anche in Sudafrica. Il governo sudafricano si mobilita e mette in piedi una serie di agevolazioni e di direttive molto simili alle nostre che prevedevano quindi modalità flessibili di ordinazione, possibilità di rimborsare i clienti eccetera eccetera eccetera. A fronte di queste novità del governo sudafricano, arrivate poco prima del nostro viaggio in Sudafrica, scopriamo quindi che tutti gli hotel avevano il permesso di rimborsare gli eventuali clienti che non potevano arrivare a causa del Covid, tutti tranne uno, dal momento che a quanto pare c'era un lodge tra quelli che avevamo prenotato noi che posticipava soltanto, non voleva rimborsare i clienti ma era disposto solamente a posticipare il loro viaggio. Questo lodge, mettiamo qualche numeretto, era il lodge più costoso di tutti, quello nel quale avevamo organizzato il safari e che da ricevuta che c'era stata consegnata ci costava ben 3060 euro. Quindi ci troviamo così con degli hotel disposti a rimborsare e uno solo che posticipa soltanto. Per cui cosa facciamo? Posticipiamo. E qui inizia il calvario. Se vi ricordate dall'altro video, infatti, noi abbiamo posticipato il nostro matrimonio per 4 volte e quindi altre tante volte abbiamo dovuto posticipare il viaggio di nozze. Poco male, tendenzialmente, non fosse per il fatto che a ogni rinvio e a ogni comunicazione con il tour operator le comunicazioni che al tempo erano amichevoli, cordiali, immediate, si facevano sempre più rarefatte. Un esempio, ottobre 2020, contatto per posticipare il viaggio ad aprile 2021, che non sarà la data finale. Per ottenere l'itinerario aggiornato con nuove date, nuove disponibilità degli hotel, dei lodge, eccetera, eccetera, da ottobre che abbiamo intrapreso i contatti per il posticipo, l'itinerario finale ci arriverà solamente attorno al 20 dicembre, e quindi circa due mesi dopo per posticipare quindi solamente le date. Nel mezzo, una serie di silenzi o messaggi sotto sollecito o messaggi contenenti errori grossolani che richiedevano ulteriori giorni per poter essere risolti. Altro esempio, febbraio 2021. Contatto per posticipare il viaggio precedentemente prenotato per aprile 2021 a settembre 2021. Da febbraio 2021, giorno in cui più o meno metà febbraio abbiamo scritto il messaggio per posticipare, riceveremo l'itinerario finale solamente il 26 maggio, quindi marzo, aprile, maio, circa tre mesi dopo. Tra l'altro, itinerario che era un esatto copia e incolla, con tanto di giorni sbagliati, del primissimo itinerario risalente ad aprile 2020. Nel mezzo, le risposte classiche erano sempre uno scaricabarile abbastanza palese e gli hotel non ci rispondono, è Pasqua e quindi sono in ferie e il Covid è una situazione nuova per cui stanno cercando di capire, anche se ormai eravamo a febbraio 2021, messaggi del tipo Abbiamo posticipato ma non abbiamo ancora le date, appena le abbiamo ve le comunichiamo, Inviato il 18 febbraio del 2021, appunto, dovranno aspettare il 26 maggio del 2021 per poter giungere a compimento. Nel mezzo, però, dobbiamo dire che alcuni problemi glieli abbiamo causati anche noi, ma per un buon motivo. Come se non bastasse questa agenzia che diventava sempre più lenta nel rispondere sempre meno responsiva, nonostante il loro motto sia disponibile 24 ore su 24, 7 ore su 7, si mette in mezzo, a dire il vero, fin quasi dal principio, la South African Airways, compagnia aerea che aveva già un sacco di difficoltà prima del Covid e che purtroppo è dovuta perire sotto i colpi del Covid. È fallita, è fallita e con essa si sono evaporati i 750 euro circa che noi avevamo messo su Budget Air per acquistare i voli della South African Airways. Abbiamo provato in vari modi a contattare sia Budget Air che la South African Airways, che altri tour operator, che altre agenzie viaggio, ma non c'è niente da fare, quei soldi lì sostanzialmente sono persi e sono persi, diciamo, in maniera incolpevole, perché se la società è fallita purtroppo c'è ben poco da fare. Ovviamente scomparsa una compagnia aerea, noi comunque i movimenti in Sudafrica li dovevamo fare e quindi dovevamo cambiare compagnia aerea. E cambiando compagnia aerea cambiavano gli orari, cambiavano le destinazioni e quindi bisognava cambiare l'itinerario. Itinerario che quindi da il febbraio, periodo in cui abbiamo iniziato a ragionare sul nuovo itinerario, verrà cambiato solamente il 26 maggio. Tra l'altro, appunto, come vi ho detto, rimanendo uguale e identico a quello dell'aprile precedente, se non poi aggiornandosi nelle date dal momento che l'errore è stato subito segnalato. Questo calvario che va da febbraio a maggio 2021, tra l'altro, ha varie sottostorie, varie sottotrame al suo interno. Ve ne cito una che risale a inizio maggio, 6 maggio. Domani torniamo dal Kruger e guardiamo. Ok, però, silenzio. Silenzio fino al 18 maggio, quando io stesso gli riscrivo per dirgli ciao, avete notizie? E la risposta al lato loro è non ancora, perdonateci, ma siamo super impegnati con viaggi privati, per cui vi chiediamo di aspettare ancora un po'. Da una società, vi ricordo, che dice di essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tuttavia, fra una fatica e l'altra, a maggio ce la facciamo, riusciamo a prenotare il nostro viaggio di nozze per settembre. Bene, tutto a porto, non fosse per il fatto che poi arriva una buona notizia. Draghi dice che da giugno in poi i matrimoni si possono fare, e quindi il nostro matrimonio di luglio sarebbe stato confermato. Giubilio, festa, folle invisibilio, ospiti contentissimi, non fosse per il fatto che dopo le nozze c'è il viaggio di nozze, viaggio di nozze subordinato alla licenza matrimoniale lavorativa. Licenza matrimoniale lavorativa che per motivi lavorativi nostri non potevamo più posticipare. Ci sposevamo a luglio, dovevamo prendere la licenza a settembre, punto, e basta. Il problema è che a tutto maggio il Sudafrica risultava non accessibile dall'Italia, se non per motivi di lavoro e se non con una quarantena di dieci giorni a rientro, perché il Sudafrica in quel momento, e così come lo è ancora oggi, era nella lista E. Ovviamente il tour operator ci propone subito di far finta di essere in viaggio di lavoro sfruttando la nostra seppur piccola fanbase su Instagram, ma ovviamente ci faceva un po' ansia dover parlare di viaggio di nozze e lavoro, perché le due cose collidevano palesemente, ma anche avessimo voluto percorrere quella via, c'era il problema della quarantena a rientro. L'altro problema che non vi ho esplicato prima è relativo ai termini con i quali possiamo posticipare il nostro viaggio. Sì, perché non possiamo posticiparlo sotto data, ma dobbiamo posticiparlo con due mesi di anticipo, per cui viaggio a settembre avremmo dovuto posticiparlo circa ad inizio luglio, per cui eravamo verso la fine di maggio e il tempo iniziava a stringere. Il problema è che il nuovo DPCM italiano che avrebbe cambiato le regole per il Sudafrica sarebbe uscito solamente il 31 luglio, quindi oltre la nostra data di possibile disdetta. Quindi chiediamo al tour operator informazioni in merito alla possibilità di stringere i termini per il posticipo a solamente un mese prima della partenza, quindi aspettare in questo modo il nuovo DPCM, e con riluttanza il tour operator inizia a gestire la pratica. Tuttavia, prima che ci arrivasse una risposta, perché altrimenti avremmo dovuto aspettare un altro mesetto e mezzo circa, iniziamo anche a informarci con loro della possibile in fausta evenienza di una distetta, perché se non potevamo viaggiare a settembre non avremmo più potuto viaggiare. Chiediamo quindi informazioni in merito. e la loro risposta è stata veloce e lapidaria. Gli hotel rimborsano il lodge o specifico sul mondo. e la loro risposta è stata